Ferribiella è presente sul mercato degli accessori PET dal 1980. Siamo un'azienda familiare, io mi occupo appunto della parte creativa e siamo molto molto felici di essere presenti di nuovo a questa edizione Zomark 2023. Ogni prodotto che noi realizziamo cerchiamo di vestirlo e di presentarlo al consumatore finale nel migliore dei modi, quindi trasmettendo tutti quelli che sono le caratteristiche principali del prodotto in maniera semplice, intuitiva e mirata. Ovviamente a seconda della tipologia del prodotto si possono scegliere i diversi tipi di packaging e capire se il discorso della sostenibilità è applicabile o meno. In alcuni casi, come ad esempio un nuovo prodotto che presentiamo sempre qui in fiera, la lettiera al tofu, è una lettiera innovativa che va a riutilizzare tutto il tofu ad uso alimentare per creare questa lettiera che è buttabile nel gabinetto, nel WC e non ha un impatto ambientale come la bentonite o la sabbietta al silicio. Un altro nuovo prodotto che presentiamo qui in fiera sono gli snack latte e miele, perché la ricerca degli ingredienti che vengono utilizzati come alimenti complementari per gli animali sono sempre più importanti per il proprietario e da lì ecco uno snack super funzionale a base di latte di capra, prebiotici, miele e pappa reale. Quindi elemento fondamentale di Ferribiele è la ricerca della qualità, perché il consumatore finale, anzi non più il padrone ma il genitore dei nostri pet, è sempre molto più attento e va a ricercare prodotti altamente innovativi, performanti e di qualità. Zomark per noi è sempre un momento davvero importante, perché ci permette di rincontrare tutti i nostri clienti e presentare al meglio i nostri. Il post-covid è stato per noi, per tutto il settore pet, un momento di crescita. Quest'anno 2023 siamo tutti in attesa di vedere come andrà comunque il secondo semestre. La positività che si percepisce però durante l'evento è bella, quindi siamo tutti molto speranzosi.